Rocambolesca operazione dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Giuliano in Campania, in provincia di Napoli, che nella serata di venerdì 12 gennaio 2018 hanno arrestato a Formia, in provincia di Latina, il latitante 41enne Filippo Ronga, ritenuto affiliato al clan camoristico Ranucci di Sant'Antimo e ricercato dall'aprile 2013, condannato a quattro anni di reclusione per rapina. Vistosi scoperto dai militari, il latitante accompagnato da un uomo e una donna ha dapprima tentato di opporre resistenza, poi ha estratto una pistola, risultata successivamente con matricola a brasa, carica e con il colpo in canna, puntandola contro uno dei carabinieri. Un altro militare, allora vista la situazione, di pericolo ha esploso tre colpi con la sua arma d'ordinanza, ferendo ronga alla regione toracica e a una gamba. Per le ferite riportate, il latitante è stato ricoverato all'ospedale civile di Formia, in prognosi riservata, piantonato in stato d'arresto per tentato omicidio, porto abusivo d'arma clandestina e resistenza pubblico ufficiale. Arrestati anche i due accompagnatori del ricercato accusati di favoreggiamento, resistenza e lesioni personali.